A Moto Days, nello stand dell'Aeronautica Militare, abbiamo un bellissimo incontro. Ecco, queste sono le ragazze del gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare che si esibiscono per promuovere quella che è l'attività, ma sono tutte militari. Questo è molto importante, tant'è vero che parliamo con la viere capo Elisa Santoni che è un po' la portavoce di questo gruppo. Che risultati, da dove venite, che cosa avete ottenuto e che cosa volete fare in futuro? Noi siamo state parte della squadra nazionale di ginnastica ritmica e abbiamo concluso la nostra attività dopo le ultime Olimpiadi di Londra, dove abbiamo conquistato una bellissima medaglia di bronzo. Oggi siamo qui, appunto, in questo Motor Day, proprio perché è presente l'Aeronautica Militare, il gruppo sportivo di cui facciamo parte. Ci siamo esibiti, appunto, in questo nuovo contesto, diverso dal solito, ma pur sempre comunque entusiasmante e divertente. Fanno parte del gruppo anche Elisa Blanchi, Romina D'Aurito e Angelica Savroyuk, che oggi si sono esibite con me. Fanno parte del gruppo anche Elisa Blanchi, Romina D'Aurito e Angelica Savroyuk, che oggi si sono esibiti con me.